Rigettata dalla Corte d'Appello di Lecce la richiesta di revisione del processo a carico dell'imprenditore Francesco Cavallari, l'ex remida della Sanità Pugliese, che nel 1995 patteggiò una condanna a 22 mesi di reclusione per associazione mafiosa, falso in bilancio, abuso e corruzione. Ai giudici Salentini la Cassazione aveva chiesto di esaminare la richiesta di revisione. In attesa delle motivazioni la difesa ha annunciato l'impugnazione. Il procedimento è quello sui presunti intrecci tra mafia, affari e politica. Sulla vicenda pende ancora il ricorso in Cassazione contro il non luogo a procedere per prescrizione nei confronti di Paolo Biallo, già manager delle ex case di cura riunite, nonché cognato di Cavallari, e del boss barese Savino Parisi, uno degli stralci del procedimento Speranza, che rispondevano del reato di associazione mafiosa in concorso con Cavallari e che non sono stati mai giudicati nel merito perché i reati erano prescritti prima ancora che iniziasse il processo.